L'almanacco della fede Di Padre Livio Oggi cari amici Volevo dedicare il nostro pensiero spirituale al resoconto che ha fatto l'emergente Ivan di Meggiugorie Nell'apparizione che ha avuto lì alla Croce Blu lo scorso lunedì Da tantissimi anni Ivan ha avuto dalla Madonna il compito di guidare un gruppo di preghiera Formato da ragazzi di Meggiugorie E poi ci sono unite anche altre persone Sempre comunque della zona E in tutti gli anni Partendo dal 1982 Perché l'anno dopo Aveva iniziato il gruppo di preghiera di Ivan Questi ragazzi avevano le apparizioni della Madonna Dopo l'apparizione consueta delle 15 e 40 Delle 17 e 40 Poi con l'ora legale 18 e 40 Oltre a questa apparizione diciamo così Ordinaria Spesso la Madonna Il lunedì e il venerdì Davo appuntamento al gruppo di Ivan Per un'apparizione speciale Per la formazione del gruppo Queste apparizioni venivano o lì alla Croce Blu Ma allora c'era molta vegetazione Quindi il gruppo era quasi nascosto Non si vedeva Io ho partecipato a un paio delle apparizioni Allora perché mi avevano aggregato un po' al gruppo Quindi posso dire che era diverso da adesso La configurazione Adesso si vede tutto Allora non si vedeva niente Oppure sulla collina delle prime apparizioni Era l'altro posto indicato dalla Madonna E spesso però la Madonna Per quanto riguarda il gruppo di preghiera di Ivan Dava anche l'indicazione sul Kriševac E così è avvenuto per molti anni Poi pian piano La Madonna Ha lasciato che questi due appuntamenti Del lunedì al venerdì Che lei dava Oltre all'apparizione ordinaria Potessero partecipare anche i pellegrini E così è avvenuto Per volontà della Madonna Appunto che con Ivan O alla Croce Blu O sul Pobordo Su la collina delle prime apparizioni Non solo il gruppo di Ivan Che animava col canti Il rosario Tutta la serata Ma anche i peregrini potessero partecipare Questi sono gli unici posti Che la Madonna ha indicato Lì a Međugorje Per incontro con un gruppo Che era quello di uno O con i pellegrini Quindi la Croce Blu La collina delle apparizioni E in primi tempi anche il Kriševac E così è avvenuto anche questa volta La Madonna a volte Dà l'avviso a Ivan Una serata stessa Quando l'apparizione In questo tempo che è ancora estivo E c'è ancora l'ora legale Alle 18.40 Dice questa sera L'incontro sulla montagna Con i pellegrini Aperto a tutti Oppure a volte Lo dice anche alcuni giorni prima Però è la Madonna che dice È la Madonna che indica E noi abbiamo avuto altri posti Non ci sono altri posti In Međugorje Dove la Madonna ha avuto di andare Per le apparizioni Con i pellegrini Sono questi due qui Perché quello del Kriševac Era i primi tempi Poi riservato al gruppo Perché andare sul Kriševac Ovviamente per i pellegrini Di sera Non è Non è per tutti Diciamo Quindi è inutile Che si cerchi di santificare Altri posti Contano quelli della Madonna Poi è ovvio Che la Madonna Appare a dove c'è il veggente Quello dove i veggenti sceglieri E quindi La stessa Miriana Lei ha scelto Credo Lei l'ha scelto La Croce Blu Per le sue apparizioni Del 2 del mese Prima era nel capannone Del cenacolo di Sole Elvira Poi lì Non potendo Non c'era più la possibilità Miriana stessa Ha detto Che lei Ha sempre fatto Il 2 del mese Sempre lì La Croce Blu Ecco Questa È una precitazione Che io intendo fare Perché 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 Tutti Fanno a gara Per Per esibire i loro posti Di apparizioni No I luoghi santi Di Međugorje Sono questi E dico Quelli fuori Dalla chiesa Sono Le montagne Prima apparizioni Sono La Croce Blu Sono Il Krishabaz Punto E basta C'è qualcuno Che ha qualcosa Da obiettare Bene Allora L'ultima Lunedì Nel resoconto Di Ivan Che Lui Facciamo un resoconto Molto dettagliato Della sua Apparizione E la Madonna Ha pregato Lungamente Per i sacerdoti E nel suo resoconto Appare Una Una Richiesta La Madonna Ha pregato Per i sacerdoti Presenti Ma poi Comincia sempre Prima con i presenti Poi si allarga Tutti i sacerdoti E ha invitato La Madonna Ha pregato Per La fede Forte Dei sacerdoti La perseveranza Dei sacerdoti La santità Dei sacerdoti E' stata veramente Una Una richiesta Fortissima E' stata Una preghiera Fortissima Della Madonna Per i sacerdoti E quindi Anche una richiesta A noi Di unirci Alla sua preghiera Per i sacerdoti Quindi questa è La risposta Della Madonna Possiamo dire Alla crisi Delle vocazioni In un certo senso Ma anche Alla crisi Che E' in atto Da tanto tempo Sulla identità Del sacerdote Sulla sua importanza Fondamentale Grazie al sacramento Dell'ordine E poi Nella prospettiva Della Madonna Come lei ha detto In un messaggio E che Miriana Ha voluto anche Sottolineare Nel suo libro E' autobiografico E cioè Che i sacerdoti Da qui Da ora Al tempo Dei segreti E per tutto Il tempo Dei segreti Saranno Come un ponte Un ponte Sul quale I fedeli Potranno camminare Per Superare Diciamo Il tempo Della grande prova Rimanendo Forti E saldi Nella fede E' chiaro Cari amici Dunque E come Così si spiega Anche perché La Madonna Chiami Tanti sacerdoti A Međugorje Magari Callano i pellegrini Si potrebbe Forse Anche a causa Di quello Che è successo Covid Guerra Insomma Le percussioni Si sentono E Posso diminuire Un po' i pellegrini Però Non mai C'è stato Una calo Di sacerdoti Io vedo che Quando vedo Le statistiche Mensili Della parrocchia Dei sacerdoti Concelebranti Se ne sommiamo Tutti Arrivano Fino a 40.000 All'anno Va beh Che alcuni Concelebrano 3-4 volte Però Alcuni Vanno più volte Insomma Però Insomma E' un numero Che non trovi Nessun altro Santuario del mondo Insomma Questo Lo posso dire Con sicurezza Almeno qui In Europa Allora Cari amici Questo Ci deve far pensare E cioè Ci deve far pensare E far riflettere Prima di tutto Sull'importanza Per sacerdote E sul fatto Che la chiesa E' stata costruita Su persone Che Gesù Ha scelto Come suoi apostoli E che poi Con a capo Pietro E che poi Si è articolata Diciamo così Nei tre gradi Del sacramento Dell'ordine Perché anche Il diaconato Comunque un grado Del sacramento Dell'ordine Poi i sacerdoti Che comunque Ha la pienezza Possiamo dire Delle attività Pastorali Poi L'episcopato Che È Come dire Una responsabilità A livello Proprio della pastoralità Ancora maggiore E allora Cari amici Questa è la costituzione Della chiesa Che ha voluto Gesù Poi sappiamo Quale risalto Ha voluto dare Gesù A quello Che lui ha scelto Come Come suo rappresentante Particolare Come pietra Possiamo dire Perché l'immagine È quella della pietra E per cui Gesù Ha cambiato il nome Che si chiamava Simone Ha detto D'ora in poi Ti chiamerai Pietro Poi ha spiegato Tu sei Pietro Su questa pietra Edificherò La mia chiesa E le porte Dell'inferno Non prevaranno Conto di essa Allora Cari amici Questa è la struttura Della chiesa La struttura La struttura Della chiesa Con Con Diciamo Il collegio Episcopale Con A capo Pietro E dove Diciamo Cristo Esercita La sua Regalità Sulla chiesa E attraverso I vescovi I sacerdoti Viene distribuita La grazia Della redenzione Quindi Dove non c'è Il sacerdote Non c'è Il sacramento Della penitenza Cioè Non c'è La soluzione Dei peccati Dove non c'è Il sacerdote Non c'è La santa messa Quindi Cari amici Dobbiamo Essere molto Attenti A come Gesù Ha Costituito La chiesa Mi ha scritto Sapete Che in questi giorni Ci sono anche Dibattiti Che Sono prossimi Al sinodo Dei vescovi Ci sono dibattiti Se fatti Con Del dovuto modo Sono anche utili Per approfondire La fede Uno mi ha scritto Questa mattina Padre Livio Ma Ho molto da pensare Che Dio Ha dato Tutte le grazie Alla Madonna Ma non le ha dato La grazia Di essere Un sacerdote Cioè La Madonna Non è Un sacerdote Non ha Il sacramento Dell'ordine E mi ha scritto Io mi chiedo Come Mi chiedo Per quale motivo Gesù Ha fatto Questa scelta Queste sono le scelte Che fa Dio Però è vero Che la Madonna Non è un sacerdote Non gli ha dato La dignità sacerdotale L'ha costituita Madre della chiesa Perché è madre Del verbo Madre del sommo sacerdote Ma non Lei sacerdote Mi ha fatto molto pensare Questa lettera Perché Come dire Più che a guardare Ai cambiamenti Del tempo Delle mentalità Noi dovremmo Cercare di capire Qual è L'ordine Divino Della creazione E della redenzione Qual è il ruolo Nella chiesa Dell'uomo e della donna Come Cristo L'ha voluto Insomma Ecco Questo è Una Una meditazione Che ci deve Aiutare Insomma A capire Che Se c'è qualcosa A cui Gesù Si è applicato Per tre anni Nella sua missione E se c'è Una Attenzione Precisa Quando Gesù Sceglie una notte Di preghiera E dopo la notte Di preghiera In comunione Col padre Scende E sceglie Dodici Fra i suoi discepoli Che erano numerosissimi Sceglie Dodici Apostoli Eppure c'erano già le piedonne C'era già sua madre Al seguito Non li ha scelti Ha scelto loro Erano poveri uomini Ha dovuto Formarli Per tre anni Hanno anche Vacillato Nella fede Perché avevano Molte Scorie umane Molte idee Di messianismo Che non è Quello del regno Di Dio Però Però Ci sono ripresi Dopo la pentola Mentecoste Hanno affrontato Coraggiosamente Sono morti Tutti i martiri E da lì La scia Diciamo così Dei confessori Della fede Dei pastori Dei papi Papi Di primi quattro secoli Sono quasi tutti martiri Insomma Vorrei Cari amici Che noi Contemprassimo Pensassimo Medicassimo Su quello che Cristo Ha fatto Su qual è La sua volontà Poi ovviamente Si valorizzano Tutte le energie Che ci sono Noi sappiamo Noi sappiamo Noi sappiamo Quanto Nel piano divino Sia stata valorizzata La donna Perché è vero Che la madonna Non è Sacerdote Ma è Madre Del sumo Sacerdote È Madre Tutti i sacerdoti È la madre Del verbo Come ha detto Lei Umilmente A chi beco Io sono La madre Del verbo Ma non è un sacerdote Dobbiamo meditare Questa Come dire Meraviglia Della formazione Della chiesa Che ci ha dato Cristo E comunque Sarà la chiesa Che ci ha dato Cristo Che triunferà Dopo il momento Della prova E con questo Cari amici Ho voluto Fare questo commento E questo richiamo A tutti noi Della madonna Che lunedì L'apparizione Alla cruce blu A Ivan Ha pregato Lungamente Per la fede Forte Dei sacerdoti La perseveranza Dei sacerdoti La santità Dei sacerdoti Non critichiamoli Ma preghiamo Per queste intenzioni Della vicina Della pace L'almanacco Della fede Di padre Livio L'almanacco 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 L'almanacco